Salve a tutti cari e care, bentornati qui in un altro episodio di Adinferos. Eccoci qui cari e care, allora innanzitutto ho cambiato sfondo, l'ho messo nero, un po' illuminato, fatemi sapere se vi riposa maggiormente gli occhi. Qui squilie e fandonie a parte, oggi siamo qui per pescare un altro bigliettino riportante un numero di uno dei canti dell'Inferno Dantesco. Ebbene sì cari e care, sono felicissima che il primo episodio e il lancio di questa rubrica vi sia piaciuto davvero tanto, infatti ve lo lascio qui. In quel video lì avevo pescato il canto ventitreesimo, se non mi sbaglio, che era quello inerente, il peccato dell'ipocrisia. E quindi abbiamo realizzato un look proprio totalmente dedicato e a tema. Oggi chissà che cosa uscirà. Tra l'altro l'ho detto sui miei social network, ma non qui su YouTube, visto che Adinferos è proprio una challenge, a me farebbe tanto piacere anche nel caso se la voleste provare anche voi. Naturalmente non c'è bisogno che peschiate tutti i canti e affrontiate tutto l'inferno assieme a me. Ma se volete realizzare qualche look dedicato ad un girone infernale, appunto taggandomi con l'hashtag Adinferos, mi piacerebbe davvero tantissimo ripostarvi e vedere appunto i vostri look. Prima di cominciare cari e care io vi invito ad iscrivervi al mio canale, mancano pochi fra virgolette iscritti alla milestone dei 100.000 quindi spero davvero tanto che prima o poi riusciremo ad arrivarci, per me è proprio un traguardo simbolico più che altro. Vi consiglio anche di attivare la campanella così che appunto possa arrivarvi una notifica ogni qual volta io caricherò un nuovo video. Vi aspetto anche su Instagram dove posto sempre i look che realizzo qui su YouTube, in macro, super HD e quant'altro, oltre ad esserci diversi video di skin care, IGTV e story sempre con tante promozioni e codici sconto per voi. Quindi vi invito, sono Enrichi Oba anche lì. Molto bene cari e care intro a parte, direi che possiamo cominciare. Siamo pronti? Allora mescoliamo bene, questi sono tutti i bigliettini con tutti i canti, li ho anche piegati così da riuscire a prelevarli meglio. Mamma mia cosa uscirà, vediamo. Canto tredicesimo, vediamo un po' di che si tratta. Adesso ricordo di che si tratta ragazzi, mamma mia ho beccato il mio canto preferito. Il canto tredicesimo è quello dedicato alla pena dei suicidi con Piero della Vigna. Dove ci troviamo cari e care? Allora siamo nel settimo cerchio, all'interno delle mura della città di Dite. Ci troviamo nella seconda sezione appunto del cerchio settimo, dove si trovano i peccatori di suicidio, ovvero i violenti contro se stessi. Questo canto è veramente uno dei miei preferiti, se non il mio preferito decisamente, perché appunto è molto triste, se vogliamo. Difatti i suicidi, qual è la loro pena? In sostanza sono tramutati in alberi o rovi. Diciamo che una delle interpretazioni di questo canto è che più la pianta è grande, è importante, più probabilmente l'anima del suicida stesso era importante in vita. Magari un'anima più dimenticabile si è trasformata in un rovo e l'anima più nobile, se vogliamo, che in vita nel dolce mondo ha fatto del benfare, probabilmente è stata tramutata in un albero più importante, ecco cose di questo tipo. Infatti Pier della Vigna appunto capiamo essere un pruno, quindi un albero piuttosto grande, importante. I suicidi infatti sono appunto delle anime intrappolate in questi alberi che faticano anche moltissimo a parlare. Anzi proprio troviamo Pier della Vigna che appunto dialoga con Dante e fatica proprio ad emettere dei suoni, proprio perché loro in vita hanno deciso di togliere a loro stessi le prerogative umane e di conseguenza il contrappasso è proprio questo, no? Il fatto di non aver più prerogative umane anche nell'aldilà. Ma capiamo bene chi è Pier della Vigna, protagonista di questo canto in breve. Trattasi di un'anima che in vita era stato il notaio, il segretario, poi diventato anche proprio braccio destro e anche consigliere di Federico II. Grazie alle sue abilità retoriche e anche abilità scrittorie esercitava parecchia influenza sull'imperatore. Infatti ora leggeremo un passo dove quest'anima intrappolata nel tronco narra proprio la sua attività in vita. Il tronco Dichiara proprio che in vita aveva lui, era lui in possesso delle chiavi per serrare. Di serrare, di serrare, per aprire e chiudere il cuore dell'imperatore. Quindi era lui che aveva diciamo la maggior influenza su di lui. Da notare la scelta retorica per esempio di un verbo come minveschi, a ragionar minveschi. Oppure sì col dolce dir madeschi. Queste sono tutte terminologie e scelte retoriche che si avvicinano appunto al gusto selvatico di questo canto. Infatti Dante ha una maestria pazzesca. Questo è rinomatamente uno dei canti più sapientemente cucito di retorica sapiente. Per esempio termini come inveschi, adeschi venivano utilizzati moltissimo anche nella poesia d'amore, troba d'orica, l'uccello che si invischiava, no? Tutti i termini che comunque poi venivano traslati metaforicamente in chiave amorosa. Che cosa succede? Pierre de la Vigna era sicuramente un uomo, un intellettuale in sostanza, tutto sapiente, visto che si destreggiava nella corte di Federico II. Viene però coinvolto in un complotto dove tra l'altro Dante crede non essere stato in realtà colpevole. Perde la fiducia in qualche modo di Federico II, molto probabilmente anche a causa dell'invidia dei cortigiani che tramano questo complotto. Pierre de la Vigna infine si suicida. Un'ultima cosa che mi piacerebbe dire per quanto riguarda questo canto è che la gemma retorica che per quanto mi riguarda mi ha toccato tantissimo sono le negazioni iniziali in ripetizione. Non era ancora, non fronda verde, non ramischietti. Questo canto è proprio caratterizzato dal fil rouge del non essere. Che dire? Io direi che per questo canto di dubbi non ne abbiamo tantissimi e secondo me tutte le cose che dovrei cercare di andare a prendere devono essere verdi. Torno subito! Allora io comincerei con un tonico verde. Qui è il Biosource di Bioterm. Lo sto per finire, è ottimo, è idratante e va benissimo anche pre-makeup. Con le labbra vado a mettere questo Lip Balm acquistato a Tokyo che è appunto verde. Come fondotinta e correttori cari e cari mi sono impegnata ma non ho trovato niente di verde. Quindi andrò con il Conceal and Define di Revolution che è veramente un ottimo correttore ed è l'Infinite. E invece per quanto riguarda il fondotinta vado con il Natural Side che mi sembra abbastanza tema di Pupa. Come cipria vado a prendere questa qui di Idon che è la Vacker in Light Warm, quella più diciamo silvestre che mi sembra di aver trovato. E per le sopracciglia Coupe de Théâtre penso che procederò con un prodotto verde. Questi sono i Brow Library di Grace Morgan per Cosmify, questo è lo 06. Qui se volete con un Dew Mix o comunque un prodottino lo potete rendere un po' meno secco. Però è veramente un bel colore, ricordo sempre che questa rubrica è partita con l'idea di comunque creare dei look portabili. So che detto con le sopracciglia verdi non è credibile ma in realtà quello che intendevo è non fare tipo face painting, robe del genere. Potete prendere spunto e togliere gli elementi che vi sembrano troppo extra, ecco mettiamola così. Vorrei mettere anche un pelo di marrone perché appunto è molto importante l'elemento rami. Inizierei con Noisette di Neve Cosmetics come colore di transizione. Ho messo anche un po' di correttore, cercherò di utilizzare più cose che posso a tema, quindi vado a prendere anche il Teal Blending di Neve Cosmetics. Ricordo a tutti che Neve Cosmetics ha veramente delle chicche pazzesche, io come brand lo utilizzo da tanti anni e che c'è sempre attivo il mio codice sconto per farvi risparmiare. Trovate tutto qui sotto in info box. Vado anche piuttosto ampia. Faccio la stessa cosa anche qui sotto ma solo verso la fine e vado con un mio pennello in collaborazione con Cosmify perché a penna di verdi non ne ho. Vedete che bellezza di transizione che riusciamo ad ottenere con Noisette. È veramente un colore chiave di Neve Cosmetics che adoro. Ve lo consiglio tantissimo se ne cercate uno di transizione. Ora riderete perché non è selvatica però comunque c'è l'erba e questo è in dubbio. Vado a prendere questa bellissima palette di Revolution, Makeup Revolution, che vi consiglio tantissimo perché è bellissima. Se siete amanti dei verdi, io l'ho già utilizzata diverse volte, i trucchi vengono fighissimi, quindi assolutamente consigliata. Vado a prendere un bel marrone intenso come può essere cool. Questo mio pennellino, sempre da sfumatura, però un po' più di precisione e vado qui nella piega. Pennelli assolutamente immancabili nella mia collection, questi qui a ventaglietto perché tirano via il fallout in un nanosecondo, a meno che non sia nero ovviamente. Questo qui è di Nabla ed è il Fun Brush. Esbote, palettina stupenda, se amate questi colori, è la Oceanic Palette. Abbiamo sia tanti blu ma se notate anche tanti verdi, quindi se siete amanti dei freddi questa è da prendere. E prendere Seagrass, che è proprio un verde prato, se vogliamo. E vado a centro palpebra, tanto poi comunque metteremo altri colori, però intanto vorrei che la base più o meno fosse questa. Prendo Tartle, che è un po' più scuro, sempre matte. E vado un po' più nella piega. Sembra non scrivere, ma farmi i buchi. Abbiamo capito che Tartle non ci piace. Ai 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 ai, fa i buchi. Allora proviamo ad andare a prendere Plant, della paletta di Revolution. Vediamo se va meglio. Adesso ho il dubbio che sia il verde della palpebra. E' un po' anche questo verde qui che sta andando via, quindi effettivamente non avevo provato i verdi della S.B.T. I blu non mi hanno dato questi problemi. Strano. Sempre con questo verde di neve e il mio pennello a penna. Vado a sfumare la matita appena applicata. Nel frattempo, se vedete cose diverse, perché sono andata semplicemente a pulire un po' di fallout. Sfumare la matita, così che il tratto qui sotto mi sembrerà ancora più intenso. Poi bisogna fare qualcosa per questa parte sopra, perché quei verdi di S.B.T. mi fanno i buchi. Dalla Flash Palette di Make Up For Ever, piuttosto introvabile, è una palette di grassi. Me lo chiedete spesso dove trovarla. Davvero non ho cercato, non riesco ad aiutarvi. Anzi, se qualcuno lo sa, ci aiuti qui sotto. Siccome appunto questo verde non mi ispira proprio per niente quello sotto, perché vedo che continua ad aprirsi. Ci vado a mettere sopra un'altra cosa. Adesso sopra qua ci vado a mettere Bud, che è questo glitter. Ok, sembra bello. E invece all'inizio dell'occhio vado a metterci Goddess, che è comunque un verde con riflessi molto interessanti. E secondo me ci sta. Questa cosa dei glitter la possiamo vedere un po' come o le lacrime dei suicidi, però che comunque possiamo immaginare. Lacrime interne, lacrime spirituali, perché comunque i dannati non hanno corpo. Oppure anche come la linfa, il sangue che esce quando il ramo viene spezzato. Che ora non ricordo se esce sangue rosso, onestamente, sangue glitter. Solo noi qui su YouTube, eh. Sotto ragazzi, voglio andare a prendere questa base di P.Louise verde acido. Vado a farci appunto una base piuttosto acida. Che io alla Ace Bottee vorrei darle un'altra opportunità e provare Algae a questo punto, perché mi ricordavo che fosse bello Algae per esempio. E quindi vorrei andarci sopra con lui qui. Sì, Algae mi sembra bello. Non so come mai gli altri. Goddess. Ce lo vado a mettere un pochino anche qui verso il dotto lacrimale. Ok, prima di pulire tutto e mettere il mascara, vado a prendere anche la matita occhi di Neve Cosmetics in bosco. Lo vado a mettere all'interno. Sono indecisa se mettere le ciglia finte o no, perché ho un'idea. Intanto inizio con il mascara di Dior. Ok, io direi che siamo in gioco, giochiamo. Nel frattempo ho pulito tutto da Fallout, ho rimesso un po' di correttore, eccetera. L'idea che avevo era quella di mettere sopra un po' di mascara verde, sempre, sì, foresta. E questo è il Vamp Mascara di Pupa nella colorazione. Non c'è scritto. Colorazione 503 di questa collezione qui. Ovviamente la base nera mi serve a tirare fuori meglio il colore, altrimenti le ciglia. Le mie sono piuttosto chiare, perciò nemmeno si vedono con un mascara colorato. Ed eccoci qui, cari e cari, io ho terminato il look. Che cosa sono andata a fare? Allora, ho scelto una cipria di Clinique. L'ho trovata verde, ho dovuto tipo rovesciare casa. Però essendo un pochino scura per me, perché è la 03, in sostanza sono andata a fare un contouring estremamente leggero. Perché comunque, ricordiamoci che siamo sempre dei morti. Ecco. Infatti il blush l'ho totalmente evitato per mantenere questa Lure Rigor Mortis. E poi ho trovato anche un illuminante verde. Questi sono i Neverland di La Makeup in collaborazione con Cosmify. E questo bellissimo illuminante è lo 04 Lost Boys. Molto molto bello. Non so se lo vedete, ma fa un effetto bagnato veramente bellissimo, senza esaltare troppo i pori. Per quanto riguarda le labbra, ero un po' combattuta, perché ero un po' in dubbio se utilizzare Idia, facente parte della mia collezione dei bucolici, Trin Cosmify, ma poi ho voluto optare proprio a livello distinto per Eddie, il numero 27 di Mulac Cosmetics, che è un nero che vira dunque un po' sul verde, come potete notare, perché stiamo pur sempre all'inferno. Devo dire che era da un po' che non facevo look verdi, quindi se volete riprodurre questo look in maniera piuttosto portabile e anche estiva, se vogliamo mettete un nude e siete veramente perfette con questo look, assolutamente molto molto intrigante, quindi insomma togliete le labbra, togliete le sopracciglia ed è portabile secondo me, fatemi sapere anche che cosa ne pensate voi qui sotto con un commentino. Vi aspetto sull'Instagram per la foto in macro di questo look, e se vi piace la rubrica mi raccomando sostenetela, scrivendo un commentino qui sotto con l'hashtag Adinferos. Adinferos, spero che anche questa puntata, questo episodio vi sia piaciuto cari e care, io sono stata felicissima di aver scato questo canto perché è bellissimo, se avete modo sotto l'ombrellone, non lo so, googlatelo, dategli una letta perché è veramente un canto, uno dei più belli della Divina Commedia indubbiamente. Mando un grossissimo bacio cari e care e alla prossima puntata di Adinferos. Bye! Ciao! 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 Grazie a tutti.